Sapete quali erano i miei progetti per oggi? 30 agosto Dormire Sì perché una persona che torna, come ben evidente da queste occhiaie, da degli esami Magari non avendo dormito molto la notte Gradirebbe mettersi su quel letto Invece che cosa succede? Che io il giorno prima di partire in vacanza Devo registrare questo video in cui mi devo scusare con voi Di che cosa sto parlando ovviamente Adesso torniamo un pochino seri dopo quest'intro di merda Ovviamente ragazzi sto parlando della porcata che ho fatto oggi Cioè per voi ieri, ma per me oggi Insomma, ieri Allora per chi si fosse perso la gran cagata che ho fatto, meglio così Per chi invece la sa già, ve la ridico In sostanza ho caricato due episodi di Insurgence nello stesso orario, lo stesso giorno Puntualmente sono andati tutti e due di merda Io c'ho l'ebola Allora ragazzi, tutto parte dalla notte prima di oggi Prima del 30 agosto, prima degli esami Io molto schiscio, prima di andare a dormire faccio Ciao, visto che allora ho già fatto cazzate Andiamo a controllare se i video sono tutti a posto, sono tutti programmati bene Vado, controllo e tutto è normale Non mi pongo dubbi Vado a dormire con la sicurezza che domani uscirà un episodio di Insurgence Dopo l'esame esco con un paio di miei amici, andiamo a mangiare fuori, torno a casa alle 3 Non avevo internet fuori casa Mannaggia, quale censuro, però non mi interessa Arrivo a casa e mi arrivano un po' troppi messaggi Me l'ha detto Luke Me l'ha detto Gio97 Me l'ha detto la mia ragazza Me l'ha detto mia madre Raga, mia madre Mia madre Gio, hai caricato due video E nulla Ieri ho caricato due video di Insurgence E a me spiace perché io per fare le cose veloci E cercare di portarvi più contenuti Mi sono perso un pochino le cose Ma esattamente come ho fatto io se l'ho controllato la sera prima A non vedere che c'erano due video per il 30 agosto Semplice L'undicesimo episodio l'avevo caricato su YouTube in privato Molto ma molto prima del 12 Tant'è che era addirittura nella seconda pagina dei video programmati E quindi io giustamente Non è che ho detto Cioè magari c'è una seconda pagina No, ho visto sulla prima pagina un unico video il 30 E ho detto A posto così A posto così E quindi non mi sono mai accorto nella vita che c'erano due video Quindi ovviamente li trovate in descrizione Se volete andarli a vedere se vi siete persi qualcosa Vi prego non mi fate morire Insurgence così Non lo faccio più Ora ragazzi giusto per levarci i dubbi qua nel video Vi leggerò tutti gli orari e i giorni dei video che usciranno fino all'11 settembre 1 settembre una reaction che era uscita il qualche giovedì fa e che ho rimosso perché per l'appunto è uscita quando non doveva 2 settembre video teoria 3 settembre episodio 13 di Insurgence 4 settembre episodio 14 di Insurgence 6 settembre episodio 15 7 settembre video spastico Se che cazzo è 10 settembre video Insurgence episodio 16 11 settembre episodio 17 E magari se faccio in tempo ce ne ficco un altro a caso Ok Gli orari sono questi Li ho fatti giusti Stavolta li ho controllati anche in video Andiamo io adesso per sfizio Vado anche sulla seconda pagina Magari ho caricato Luke Lesce E non me ne sono accorto Andiamo a vedere No Non ho video programmati Quindi se gentilmente Adesso adesso vado anche guarda sono qui raga Vi do anche 4 commenti in lista spam Andiamo a leggerli così in live così rendiamo il video più merda Passate dal mio canale Mi si è spenta la porco di luce Niente ragazzi Porca di quella troia Io spero che questo video vi sia piaciuto Non vi può essere piaciuto però dettagli Andatevi a recuperare i video di Insurgence Io sono un coglione Ciao devo andare in vacanza C'ho sonno Le occhiaie Quello è il letto Buonanotte Ah per chi se lo chiede Sì questa è barba Non c'ho le malattie Aspettate che la faccio crì È barba ragazzi